Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ora, parliamo di quello che sta accadendo nel mondo del giornalismo televisivo italiano, un ambito che non smette mai di sorprenderci. Recentemente, abbiamo assistito a un cambiamento significativo, Giuseppe Brindisi, noto per il suo lavoro in Ezona Bianca, sta per prendere il posto di Andrea Giambruno come conduttore di Ediario del Giorno e su Rete 4. Questa novità arriva in un momento piuttosto turbolento, dato che Giambruno è stato coinvolto in alcune gaff piuttosto discusse durante e striscia la notizia. Brindisi, con la sua lunga carriera in Mediaset, affronta questo nuovo incarico con un atteggiamento equilibrato, mescolando prudenza e sicurezza. Di recente, in un'intervista, Brindisi ha condiviso alcuni pensieri sulla sua carriera e su quanto rispetti figure come Antonio Ricci. Ha ammesso che, anche lui, in momenti di grande tensione, potrebbe commettere errori. Nel frattempo, Giambruno non si è dato per vinto. Dopo aver lasciato Ediario del Giorno e aver avuto dei dissapori con la premier Giorgia Meloni, sembra che stia cercando di tornare in televisione in un ruolo ancora più importante. Però, sembra che Pier Silvio Berlusconi, che comanda le redini di Mediaset, stia procedendo con cautela, lasciando Giambruno in una sorta di limbo. In questa situazione carica di aspettative e incertezze, tutti gli occhi sono puntati su Brindisi, che sta per assumere il comando di Ediario del Giorno. E voi, che ne pensate di questi cambi?